Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Nel video di oggi, un nuovo episodio di Master Brawler, vi mostro l'ultimissimo brawler, è arrivato il pinguino a rank 35 Imbarazzante, inutile dirlo Eccoci qua sulla schermata di game ragazzi, come potete vedere siamo in compagnia di Linkino e Leoncino Buonasera ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene per forza, hai portato il pinguino a rank 35 Tra l'altro, quanti giorni ci hai messo dal rilascio? Perché è già da un po' di tempo che ce l'hai al 35 Sette giorni più o meno, cioè fino a 500 l'ho fatto a martedì e poi da martedì a domenica l'ho fatto pian piano Oh, ti sei preso i tuoi tempi giustamente Buonasera, sì, episodio di Master Brawler, classiche domande La prima, Star Power preferita, è uscita proprio oggi la seconda, ma ho già sentito che non c'è troppo amore tra te la seconda Star Power Qua non l'ho provata, però penso sia meglio la prima Ma secondo me è un po' fastidiosa la seconda perché c'è questi 3000 punti saluti in più sui facchini robotici Ma penso che rompa un po' le balle all'avversario ma rispetto all'avere proprio un colpo più potente non c'è storia Cioè, raga, la cosa figa della prima Star Power è che, coraggimi se sbaglio Link, tirando un colpo, anche non andando segno, c'è comunque l'esplosione e quindi aumenta la gittata di fatto Cioè diventa molto long come Brawler In breve, come sempre, adesso farò apparire anche la screen In che mappa l'hai portato su e quindi anche che modalità? L'ho portato su i Brawball E l'ultima mappa che ho giocato è King Air Brawl Stadion Ok, raga, comunque, ripeto, sarà apparsa la screen E niente, zì, io direi che io per quel po' che l'ho usato, vabbè, l'ho portato solo a livello 9, però è parecchio, parecchio da nerfare Dubito che tu l'abbia portato su Indominio, ma in generale Indominio hai già pushato qualcosa? No Ah, su Ruba Regali Ah, su Ruba Regali l'hai pushato? L'ho fatto tardi Ok, vado a prendermi la zona favorevole Ok Subito così, tac Ok, ci sta subito Ems Ripperoni, ragazzi, ho andato giù come una pera Eh, c'ho... C'ho poca vita, c'ho poca vita e devo stare attento a non prendermi hit Ok, giustamente adesso Ems si sta pigliando i peggio punti Dai ancora una hit veloce Ok, tolta Ems Buono, zì Provo a piazzare qua il robottino No, l'ho piazzato malissimo, mi sa Ok Eh, no, Ems mi distrugge proprio sta mod Ok Provo a tenerla Buono, lì Ok, la parte di destra ce l'ho Il fatto che con sto c'è spuglio se mi arriva qualcuno io non lo vedo Ok, hanno... sono tutti quanti di là a sinistra, zi Basta rallentare... eh, perfetto così, perfetto Buona per Leo Cerco di starmi un po' più easy Mi ha recuperato, buona, raga Mi piace al volissimo i Pinguinators Bella per Ems Doppi punti No, madonna, mi ha one-shotato di nuovo Eh, ragazzi, il punto debole è sicuramente alla vita Ma io, zì, l'ho visto tanto in Brawl Ball, appunto, come... come mi ha detto che l'hai bruciato te E poi... onestamente nella mappa di oggi non ce lo vedo malissimo neanche in Siege Per quanto io la giochi poco Buona, raga Arriviamo a 40 punti Più del doppio degli altri Ce la portiamo a casa easy così Bien, bien, bien Va direttamente con la gem Ok, quindi in questo caso qua lo uso lane Oh, volevo giocare a destra, Link In questo caso qua lo uso lane Non tutti quanti un bel po' digitata Bella per Sandy Bella anche per quel Brock Easy Ok, ci piazzo qua easy Il Pinguinatore Via, 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 via Mettato Brock Tolto Mi ha one-shotato Oh, miseria Sbaglio a espormi così, raga Ok, sempre attenzione con i colpi di Brock Dai che one-shotissimo Il mio animatore è ancora lì Quindi semplicemente me la tengo lì Easy Vai, 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 vai Piliamoci No, niente Mi tolgo di qua Attenzione C'è Rosangela In mezzo Don Zara Si chiama quello lì Attenzione 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 a Sandy Sandy di nuovo brawler Che sto trovando Un sacco Un sacco di partite, raga La strovo ovunque Buona zi Pulite anche questa Ce la portiamo a casa così Tom Mangiatevi ancora una Torretta al pinguino Voila E via Anche la gem grab Ce la portiamo a casa Easy Ok ragazzi Eccoci qui Siamo in brawl ball Da una parte C'ho una nita Quanto pare Ok Ci sta un crow Mi ha hittato Tirato giù crow Potrebbe essere goal Leggermente proprio C'è un trollettino Da parte di Link Eh no Mi sono preso un po' bene Zii È andata così Ok Maru buonasera Quando ho finito Se lei desidera Riproviamo il push Con Nick Come stamattina E Link non c'è Link ha detto Che ci abbandona Finiamo giusto la rec Eh zi Vado a dormire Ha detto Non riesco Essere forte come Maru Ho detto testuali parole E allora No no Ha detto vado a dormire Zii se Già che siamo in tema Se per caso Questa cosa serve Con il Portare i brawler Al rank 35 Dimmelo Che Chiudo qua il video Chiudo qua la live Vado a dormire Anch'io Magari può essere già un inizio Per essere ben riposati Avere quelle 14 15 giove di sonno Giornaliere È easy 14 Magari C'è Oh tanto C'è 3 Eee Dai su zii Vado vado a lì Vado a lì Con la skin più brutta del gioco Parte Vado C'è 4 Ragione Alle ore di sogno Di un camionista Ragazzi Se mi sveglio Le 6 e mezza Vado a dormire E fa di sempre le 2 È bravo furbo Ma non dormi Aspetta Aia Questa era veramente Questa è arrivata In concomitanza Col gol Questa frase Quindi non la posso neanche tagliare Cioè questa è proprio È uscita È uscita una grande verità Ragazzi Uno scoop Per Per il video Ok Andiamo con l'ultimo In assedio ragazzi La mia modalità Assolutamente preferita Eee Raga Avete per fortuna Per vostra fortuna Un mid fortissimo Siete voi Fortunati Ok Guardate Ferti come Sfrutta i muri Comunque guarda che Vabbè Li sfrutto ma non becco nessuno Sfrutto i muri per beccare Leo Poi ti dico Guarda che Mr.P alla fine Ci sta È facile a portare su Credo che l'hai fatto A rank 35 Dovrei provarci anch'io Ragazzi Stasera proviamo Proviamo A rank 35 Una curiosità Che ti devo Esporre Ma Fa tanto la star power Alla fine della fiera Vuoi proprio forte il brawler Abbastanza Perché Se mi dovesse uscire Ora come ora Nello shop Con 2000 di oro Me la piglio Al volissimo Una di quelle che Prenderei Ok Bello sto Roboto da 13 Raga E poi In haste In 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 siege Ragazzi Con gli obiettivi Comunque sia Statici Abbiamo già visto Che rende Particolarmente Buona Tiriamo giù Con un Con un bel push Z guarda Facciamo ancora una partita Per il rank 23 So che è un rank Già importante E andiamo in chiusura Te lo facciamo direttamente qua Maru Tu Perché Che scuola fai Ma come in chiusura No In chiusura del video Non della live Del video Ma hai spaventato Maru No no Stai tranquillo Anzi Adesso chiamo anche Quel fagnano di Nick Mi ha detto Chiamami E sei bisogno Adesso lo chiamo Vediamo se Turistico Lì Tecnico No Dove non si fa niente Ma che antipatico Vabbè Ecco perché C'hai sei ore di buco Ora capisco No C'ho Turistico Che fai Ti pagano Per fare il turista Sì bravo Impara a fare Lo human safari Dici Bravo Ecco Magari allora Guarda vado a farlo anch'io Se fosse così Gli dico Quello che c'è di bello L'artistico E l'artistico Il turistico E che Sicuro impari bene le lingue E poi nient'altro Perché non puoi farci Dai E beh Zì Ma è che già imparare bene le lingue Non tutte le scuole Ti danno quella Quella skill La skill Lingue Lingua extra Comunque ragazzi Già che c'eravamo Abbiamo fatto un'altra partita Siamo arrivati a rank 23 650 copp Mamma mia Meno male che Questi risultati Si riescono a raggiungere Con un team così 20.000 copp Già che c'eravamo Grandi Grandi cose Non sto neanche pushando Stas season Giusto per la cronaca Ragazzi Direi che siamo giunti Al termine del video Noi ci becchiamo Con una prossima live Un prossimo video Con i soliti orari Dalle 5 alle 8 Su youtube Dalle 9 e mezzanotte Su twitch Un ringraziamento al link Un ringraziamento alle io Vi ricordo come sempre Nel negozio Codice ferre Se shoppate qualcosa Taggatemi E vi riposto Iscrizione e campanellina Tutto quanto qua sotto Il link e quant'altro Ragazzi Ci si becca Un salutone E ciao